Per parlarvi di questo prodotto devo necessariamente raccontare una breve storia iniziata circa un anno fa quando una PR con cui avevo già collaborato in passato mi ha chiesto se volessi provare un convertibile. La mia risposta è stata positiva, così l'ho ricevuto, ho provato meno di 24 ore, credetemi, e le ho riscritto. Dico guarda, te lo rimando indietro perché aveva così tanti difetti dal punto di vista hardware e software che era proprio difficile utilizzarlo, per cui non riuscivo tecnicamente a fare la recensione. Ho elencato tutti i vari problemi, tra cui anche l'alimentatore che fischiava per dire, e l'ho rimandato al mittente. Onestamente me ne sono completamente dimenticato, se non fosse che circa due mesi fa mi ha riscritto la stessa PR per conto della stessa azienda dicendomi che avevano realizzato una nuova versione decisamente migliorata, anche grazie a quelli che sono stati i miei feedback, immagino non solo i miei, e mi ha chiesto se volessi provarla nuovamente. Ho detto di sì e ho specificato, come sempre faccio, a patto di poter dire liberamente quel che penso, anche dal punto di vista delle criticità, che è la formula che utilizzo con tutti i PR, con tutte le aziende, e che molto spesso, devo dire, sempre più spesso ultimamente, mi porta ad un'interruzione delle conversazioni, perché evidentemente questa cosa non piace molto. Però in questo caso invece mi hanno detto di sì, sapendo che avrei già detto alcune cose negative del prodotto, che infatti vedremo perché erano già presenti nel precedente, purtroppo alcune sono rimaste. E questo, devo dire, fa onore a questa azienda, per questo ho voluto iniziare proprio con la piccola storiella in questione, perché effettivamente tanti dovrebbero ragionare in questi termini, e imparare anche da eventuali critiche che vengono sollevate, che ovviamente nel nostro lavoro lo facciamo anche per dare la possibilità alle aziende di migliorare nelle future generazioni. Quindi, piccola parentesi chiusa, andiamo a parlare di lui. L'azienda si chiama KUU, vi dico così come è scritto il nome, per le sue tre lettere non so quale sia la pronuncia originaria, ed è un due in uno di chiara ispirazione Surface, insomma, seppure oggigiorno bene o male qualsiasi produttore abbia all'istino un prodotto simile a questo. Ora, la cosa interessante è qui qual è, chiaramente, il prezzo. Si punta ad un prodotto che abbia delle specifiche elevate ad un prezzo contenuto, cioè non intendo un prodotto che costa 200 euro, ma un prodotto che rispetto alle specifiche che ha costa nettamente di meno di quello che ti potresti immaginare. Vi faccio un esempio concreto, cioè lui adesso su Amazon costa 800 euro, un po' meno in realtà perché c'è un codice sconto, dotato anche di tastiera e di penna, ha un i7 con 16 GB di RAM e 512 GB di SSD. Se voi prendete lo stesso prodotto, o per meglio dire il prodotto con le medesime specifiche di casa Microsoft, quindi quello nativo, quello ufficiale, costa più di 2000 euro. Se ricordo bene, con questa dotazione siamo intorno ai 2004, quindi stiamo parlando di un prezzo nettamente inferiore. È chiaro che per raggiungere questo tipo di differenze di risparmio si deve perdere qualcosa per strada, insomma non è che abbiano fatto un miracolo, cioè sicuramente si sono comportati bene nel realizzare un prodotto ben bilanciato, però con un orientamento ben specifico perché ci sono delle carenze che ovviamente possono essere importanti per alcuni al punto da non considerarlo completamente. Quindi vediamolo più nel dettaglio. Allora, iniziamo dalla parte esterna che è quella più semplice da analizzare. Sicuramente tutto quanto in metallo, e questo fa piacere perché dà l'idea di un prodotto ben realizzato. Poi sapete che io non sono così, diciamo, convinto che metallo uguale qualità, nel senso che spesso sono le finiture, la precisione con cui un prodotto è assemblato a dare quella sensazione di prestigio, insomma, di qualità. In questo caso infatti abbiamo sì un largo uso di metallo, ma poi se vai a guardare nel dettaglio e sei un po' pignolo, vedi qualcosa che non ti quadra a livello di allineamento di materiali, di accoppiamenti e cose così, però non un grosso problema, insomma. La cosa che proprio si nota invece, almeno per quella che è stata la mia sensazione, è la struttura qui posteriore, che serve ovviamente per dare le varie inclinazioni, che, mamma mia, ha un suono proprio di lamierina di bassa qualità. Poi quando tu la utilizzi in modalità stand, dai la sua inclinazione, bene o male sta il prodotto senza problemi, però ecco, quella sensazione è sicuramente ben distante dal pregio che si nota nel momento in cui si analizza la cerniera realizzata nei Surface e magari anche in altri prodotti concorrenti. La fotocamera frontale non ha il riconoscimento Windows Hello, ma c'è il sensore di impronta che lo ha, quindi si può utilizzare tranquillamente all'interno delle varie applicazioni. Fotocamera frontale che, vi dico subito, sì, va benissimo se fate una call, non va bene se dovete fare una presentazione o qualcosa di ufficiale, perché ha 2 megapixel e se la cavicchia, diciamo, non più di questo. Fotocamera posteriore 5 megapixel, anche lei decente, non aspettatevi nulla di particolare, insomma, giusto qualcosa di utilità lì per lì. Poi abbiamo un bilanciere per regolare il volume e un'uscita audio su cui torniamo a breve perché ha una valenza potenzialmente interessante. Sul lato abbiamo due porte USB-C che servono per, ovviamente, gestire tutto quello che riguarda la connessione. Infatti abbiamo la possibilità di connettere dispositivi per scambio dati, la possibilità di un'uscita video, ovviamente con adattatori o con hub, tutto quello che si fa normalmente quando ci sono solo delle porte USB-C, e anche la ricarica viene veicolata da lì con Power Delivery e un alimentatore in dotazione da 45 Watt. L'autonomia, vi dico subito, 4-5 ore di utilizzo misto. Se fate poco potete arrivare anche a 6, ma 4-5 ore è quello che più spesso ho riscontrato. Da notare che non accetta facilmente tutti i tipi di alimentatori di terze parti perché evidentemente ha pochi tipi di Power Delivery che sono gestiti nativamente, quindi se non utilizzate l'alimentatore originale accertatevi che sia almeno da 45 Watt perché da 45 Watt in su bene o male ho visto che funziona praticamente sempre con anche alimentatori di terze parti. Vi dico subito, la penna è di qualità abbastanza valida. Secondo me il digitalizzatore non è a livello degli ultimi Surface di sicuro. Ha una ricarica sul lato posteriore, un tastino per accenderla, si abbina abbastanza rapidamente in automatico e poi ovviamente notate subito quando funziona perché sparisce il puntatore e avete il puntino sul display a circa un centimetro e potete utilizzarla per scrivere, prendere appunti. Diciamo che finché arrivate a note, schizzi, la penna va assolutamente bene. Personalmente non la ritengo ideale per chi lavori nel campo della grafica, del disegno più che altro, però per tanti altri aspetti fa il suo senza alcun problema e tra l'altro ha questa cosa comoda di attaccarla di lato. Ora, la maggior parte, sì, direi veramente la maggior parte delle mie criticità riguardano la tastiera. Questo è un aspetto su cui sono abbastanza esigente, però devo dire che qui il lavoro che è stato fatto non è un granché per diversi motivi. Allora, intanto la tastiera ha un layout internazionale e non c'è una versione prodotta dall'azienda con il nostro layout italiano. Ora, siccome dai connettori che vedo qui non mi pare ci sia anche compatibilità con le tastiere ufficiali di Microsoft e credo anche per una questione di licenze, magari ecco, forse qualche vecchia versione sarebbe da controllare meglio, però da quelle che ho visto io attualmente, sia i pin che i connettori non sono gli stessi in termini di posizionamento e dimensione rispetto a quelli attuali del Surface e loro non fanno la tastiera italiana, siamo un po' limitati da questo punto di vista. Qual è la soluzione proposta dall'azienda? Che in dotazione ti mandano anche degli sticker, praticamente di tutte le lingue, c'è anche quella italiana, che tu potresti mettere sui tasti, in particolare i modificatori, perché poi alla fine è una tastiera QWERTY, quindi le cose principali, i numeri e i tasti sono dove te li aspetti, così come i tasti funzionano. Però, intanto è una tastiera retroilluminata, che è un bene, però ci attacchi le etichette sui tasti, perde un po' di significato, insomma ti perdi quell'aspetto lì, quindi già un po' quello mi ha spiazzato. E poi, comunque, la tastiera ha delle differenze fisiche, nel senso che non c'è il tasto maggiore e minore a sinistra dello Z, manca proprio nelle tastiere internazionali, così come qui non abbiamo l'invio a 7, diciamo tipico nostro, ma quello a bacchetta, diciamo così, che quindi ha un tasto in più nella zona superiore e un tasto in meno in quella inferiore. Quindi ci sono queste piccole differenze qua e là, che in qualche modo richiedono un adattamento. Ora, ci sono persone che in realtà preferiscono questo tipo di layout, perché magari, non so, per il coding, qualcuno per il gaming, ci sono diverse motivazioni che possono portare alla preferenza proprio di questo layout. Io no, perché scrivo al 99% testo in italiano e quindi devo avere la comodità in prima funzione, tutti i tasti accentati, eccetera, eccetera. Come ho risolto? Personalmente, in questi casi, io utilizzo semplicemente la tastiera con il layout italiano, cioè dico al computer che il layout è italiano, per cui ho i tasti dove, bene o male, me li aspetto. Non guardo la tastiera e vado, diciamo, sfruttando quella che è la mia memoria e vado in automatico. Nella maggior parte dei casi mi trovo bene, non sempre per quelle due differenze che vi ho detto, che ogni tanto mi portano a fare qualche errore. Però, ancora di più della tastiera, a me non è piaciuto il touchpad, perché è veramente di vecchia concezione. Cioè, voi pensate che non solo non si preme in alto, ma non si preme neanche in basso, per dire, nella zona centrale. Cioè, proprio ha una differenziazione tra parte sinistra e parte destra per i due click. Ora, è chiaro che si può utilizzare anche il semplice tocco, però mi è sembrato veramente un approccio molto, molto vecchio a scuola su questo touchpad. Quindi tastiera, per quanto mi riguarda, no. Un aspetto che invece mi è piaciuto molto è quello dello schermo, perché è un 12,6 pollici, con una risoluzione orizzontale di 1440 pixel, quindi anche abbastanza valida. E devo dire che mi è piaciuto anche nella riproduzione cromatica. Certo, è un pannello con copertura in vetro, e quindi ha i riflessi, perché è touchscreen. Però, a parte le condizioni in cui magari lo utilizzate proprio sotto luce diretta, perché poi lui non ha neanche una luminosità eccezionale, per carità. Però, nell'utilizzo comune che ne ho fatto, in ufficio, a casa, insomma, nella maggior parte delle situazioni si è comportato molto, molto bene. E direi che è la parte che mi è piaciuta di più di questo prodotto, perché poi, ecco, con uno schermo così, sarebbe stato bello avere un comparto audio di pari qualità, perché ti avrebbe dato la possibilità di sfruttarlo molto sulla fruizione di contenuti. In realtà, no, perché il comparto audio, in riproduzione in particolare, secondo me non regge assolutamente il confronto con lo schermo. È in scatolato, privo di bassi, se è super il 70-75% di volume comincia anche a gracchiare un po'. No, purtroppo sul fronte audio non va granché bene. Per fortuna c'è la possibilità di utilizzare cuffie auricolari Bluetooth senza problemi e per fortuna, vi avevo anticipato all'inizio, nella zona destra abbiamo un'uscita audio da 3,5 mm, quindi al limite anche un banalissimo auricolare cablato vi risolve il problema. Non che non si possa sentire l'audio, però, insomma, rispetto allo schermo sicuramente è parecchio livelli sotto. Quindi, complessivamente, non è un prodotto che mi è dispiaciuto da utilizzare, però ci sono alcuni aspetti che bisogna assolutamente evidenziare e uno di questi riguarda proprio le componenti hardware, perché io prima vi ho detto un i7 con 16 GB di memoria RAM, DDR4, e 512 GB di SSD, e queste cose sono vere. Il problema è che l'i7 è di ottava generazione, quindi parliamo di Kaby Lake, parliamo di processo produttivo a 149 m, è insomma di qualcosa che oggi è piuttosto superato, siamo nella dodicesima generazione attualmente. Ora, d'accordo, non è che tutti i prodotti che trovate in commercio sono di dodicesima generazione, trovate ancora facilmente un dicesima e decima, però proprio l'ottava generazione. Cioè, ecco, mettere un i7 a questo punto non mi è sembrata una scelta tanto indovinata, cioè probabilmente mettere un i5 già di decima generazione forse sarebbe stato meglio, ecco. Però, a parte tutto, devo dire, qui, quello che ti serve fare con questo computer lo fai, nel senso che non è un portatile che puoi immaginare per una produttività particolarmente spinta, ma per il lavoro di tutti i giorni, quindi per gestione documentale, fruizione di contenuti, per andare anche a giocare. Se utilizzate servizi cloud come Xbox Pass, per dire, è assolutamente possibile. In locale diventa ben più complicato, perché con la Intel UHD 620 non è che si possano fare grandi cose. Così come, alla fine, sì, c'è un i7, ma se pensate ad aspetti che riguardano appunto la grafica, come fotografia e montaggio video, diventa un po' più faticoso. Allora, montaggio video io lo escluderei. Sulla fotografia, in realtà, grazie ai 16 GB di RAM, non è una macchina che va male, insomma. Certo, non aspettatevi grandi prestazioni, però il suo riesce assolutamente a farlo. Diciamo che l'utilizzo che io vedo principalmente è quello più quotidiano, insomma, della produttività un po' più spicciola. In quel senso lui è stato sempre molto fluido e reattivo. Arriva con Windows 10, ho installato Windows 11, dopo pochi giorni me l'ha proposto lui in automatico, non ho avuto nessun problema dal punto di vista di driver e altro, però faccio notare due altre criticità potenziali. La prima è che comunque lui ha un approccio alla reazione abbastanza aggressivo. Ricordate, parliamo di un chip di vecchia generazione, ancora non c'era, diciamo, questa attenzione che si sta riscoprendo, soprattutto negli ultimi tempi, devo dire grazie ad Apple, probabilmente con Apple Silicon, a creare dei chip sempre, sempre più parchi di consumi e quindi anche con temperature meno elevate. E anche se la concorrenza oggi non è comunque arrivata ai livelli di Apple Silicon, con l'ottava generazione si nota che c'è questa tendenza ad andare facilmente a riscaldare, che è stata risolta con un eccesso, secondo me, di utilizzo delle ventole. Cioè spesso veramente fai, non so, una ricerca, anche nel computer, dico una cosa semplice, è tipo partire la ventolina che senti per qualche secondo, qualche istante. Non è una cosa super fastidiosa, perché la ventola non è rumorosissima, però ecco, ti devi un po' abituare a questo fatto di averla con una certa frequenza, anche con un test come Geekbench, che in molti computer non fa partire le ventole, perché di suo non va a stressare la CPU con carichi molto intensivi, qui già dopo mezzo secondo sono già partite le ventole, come in questo caso. E l'ultima criticità che devo far notare, questa mi ha dato un po' fastidio, è che se la ventola gira e voi muovete il prodotto, oddio, adesso non si è sentito perché ho chiuso la copertina e è andato in stand-by il computer, ma ve lo faccio risentire perché è un aspetto molto importante. Diciamo, la ventola gira, voi muovete il portatile, tipo che lo scuotete un po' così, non so se siete riusciti a sentirlo, ma si avverte come una vibrazione all'interno. Ora, io ho segnalato questa cosa all'azienda, ho detto che l'avrei letto nella recensione, ho fatto numerose prove anche veramente fastidiose per la macchina e non ho mai avuto un problema, cioè sì, c'è questo rumore, ma non causa un malfunzionamento. Però, ovviamente, può essere fastidioso e ovviamente denota un controllo qualità non di livello altissimo, ma è questo appunto che si deve accettare per avere delle specifiche che sulla carta sembrano miracolose per il prezzo, ma poi ovviamente sono raggiunte attraverso tutta una serie di limitazioni quella. Nel complesso ci sono delle situazioni in cui questa macchina può essere interessante, a me non fa impazzire, ma ritengo che ci siano appunto diverse persone che possano valutarla, soprattutto se vi interessa nello specifico avere quelle caratteristiche, tipo avere magari appunto gli 8 threads, eppure ormai quelli si trovino facilmente anche negli 5 di ultima generazione che vanno anche oltre, in particolare ecco i 16 GB di memoria RAM che sono più difficili da trovare in un 2 in 1 se non nelle fasce che spesso costano molto di più, così come i 512 GB di SSD, e ribadisco per chi li apprezza, in dotazione, tastiera e penna, perché di base su molti prodotti si acquistano a parte e ovviamente possono far lievitare il prezzo. Bello lo schermo, peccato perché lui è veramente un elemento che mi è piaciuto in maniera particolare. Fatemi sapere come la pensate nei commenti, grazie per aver visto questo video, grazie all'azienda, grazie alla PR per avermi dato la possibilità di parlarne come sempre faccio liberamente, sia per i pro e per i contro, e ci vediamo la prossima volta. Ciao!